un aneddoto racconta ogni giorno in africa come sorge il sole una gazzella si sveglia e sa che dovrà correre più del leone per non morire ogni giorno in africa come sorge il sole un leone sa che dovrà correre più della gazzella per non morire di fame ogni giorno in africa come sorge il sole non importa che tu sia leone o gazzella l'importante è che tu inizi a correre questo vuol dire che chi dorme non piglia pesci correte ragazze e fate tesoro di tutti questi insegnamenti che possano permettervi di correre più veloce e a lungo di tutti gli altri per realizzare voi stesse e i vostri sogni grazie a tutti 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 grazie a tutti